3 arresti per l'aggressione dei due pesaresi alla roca malatestiana di Fano Il disco orario in Baia Flaminia divide residenti e commercianti Lavoro stagionale, tante richieste anche al centro per l'impiego Eventi appuntamenti per l'estate 2021, Vallefoglia presenta il cartellone Giovedi 24 giugno, buona serata, benvenuti al telegiornale di Rossini TV In apertura questa sera partiamo con la cronaca perché sono stati identificati Gli otto componenti della banda che lo scorso 8 maggio aveva aggredito due giovani ragazzi pesaresi Nei pressi della roca malatestiana di Fano Tre dei componenti del gruppo sono stati arrestati Tre arresti e l'identificazione di tutti i componenti del branco Per un totale di otto ragazzi Sono i risultati delle indagini e dell'attività portata avanti dalla Polizia di Stato In servizio presso il commissariato di Fano Che questa mattina ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare A firma del GIP di Pesaro e condotto presso il carcere di Villa Fastigi Tre giovani del gruppo che lo scorso 8 maggio Aveva aggredito e rapinato due ragazzi pesaresi Nei pressi della roca malatestiana di Fano In particolare una delle due vittime era stata violentamente picchiata e ferita Per aver difeso l'amico Preso precedentemente di mira dal branco per avere lo smalto nero sulle unghie Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno inoltre permesso di ricostruire Le due distinte rapine operate dal gruppo nell'arco di breve tempo Nel primo caso il branco avrebbe accerchiato l'autovettura di due giovani Costringendoli a consegnargli un braccialetto ed un telefono Pochi minuti dopo gli stessi soggetti avrebbero individuato nei pressi del parcheggio della roca La coppia di amici pesaresi Vittime oltre che dell'aggressione anche del furto di un cellulare e di un marsupio In entrambi i casi il gruppo i cui componenti risultavano anche aver assunto dell'alcol Ha agito ponendo in essere pesanti provocazioni nei confronti delle giovani vittime Esternando odio nei loro confronti e denigrandone l'aspetto fisico e ricorrendo alla violenza Quattro degli otto componenti del gruppo risultano essere minorenni Dei tre soggetti condotti in cella invece il primo, considerato il leader della banda Risulta essere un moldavo già noto alle forze dell'ordine Il secondo, un italiano di origine nordafricana già ospite di una comunità educativa della zona E il terzo, di origine marocchina Uno dei minori facente parte del branco era già stato sottoposto alla misura della custodia cautelare Presso un istituto per minori Continuiamo a parlare di cronaca e rimaniamo a Fano perché si è verificato questa mattina Poco dopo le 6.30 a Mettauriglia, lungo la statale Adriatica Un grave incidente nel quale è rimasto coinvolto un pedone che ha perso la vita Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, un settantenne residente del posto Sarebbe stato investito da un furgoncino escaraventato a diversi metri di distanza dal punto d'impatto Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Fanese per ricostruire le dinamiche esatte dell'accaduto Ed ora cambiamo completamente pagina e torniamo invece a Pesaro Per parlare dei cambiamenti operati alla situazione parcheggi in zona Baia Flaminia Dopo le strisce blu nell'area di Campo di Marte arriva infatti la sosta regolata dal disco orario Decisione che ha trovato in parte il consenso delle attività commerciali ma nello stesso tempo la contrarietà dei residenti Dopo l'arrivo degli stalli a pagamento a Campo di Marte proseguono le modifiche destinate ai parcheggi di Baia Flaminia A breve infatti la sosta nei posti auto adiacenti a Piazza Europa e in quelli di via Bruxelles Verrà regolamentata con disco orario di 60 minuti dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 Soluzione che da un lato scontenta parte dei residenti, gli stessi che da tempo sottolineano la carenza generale di posti auto E che hanno attivato una raccolta firme per chiedere nuove strisce blu E che dall'altro invece trova il favore parziale dei commercianti I quali però avevano chiesto che la misura del disco orario coinvolgesse un numero maggiore di stalli La Baia Flaminia ha pochi posti, vengono occupati molti dei residenti che giustamente d'estate usano bici, usano scooter E abbiamo stalli fermi per mesi La clientela che va verso il mare, il turisma, viene bloccare dei posti che dalle 8 della mattina fino alle 8 della sera stanno fermi lì Quindi non abbiamo più spazio Il Comune ha concesso Piazza Europa e via Bruxelles ma non considerando che la metà di via Bruxelles sono posti per motorini Quindi ha incrementato alla fine quei 16, 17, 18 posti auto che non risolvono la nostra problematica Noi avevamo fatto la richiesta di partire da via Londra, tutta Piazza Europa E via Bruxelles in modo da riuscire a incrementare una buona parte per i parcheggi Per tutte le attività commerciali che abbiamo Non solo, la richiesta era stata fatta dalle 9 della mattina fino alle 22 Senza pausa pranzo perché molte attività in modo particolare come la mia nella pausa pranzo richiamano un quantitativo di clientela Si era stata anche proposta l'idea di far passare la sosta da parcheggi bianchi con le righe blu quindi a pagamento Ma non risolverebbe assolutamente il nostro problema Anche perché così i residenti con 25 euro per due anni avrebbero tutti i posti senza più nessun tipo di problema Questo non solo complicherebbe un'altra volta la situazione dei parcheggi Ma complicherebbe anche sia per i turisti sia per i nostri clienti Che oltre alla difficoltà del parcheggio dovrebbero raggiungere anche il pagamento per un parcheggio di un'ora La speranza è quella di riuscire a rifare nuovi incontri Riuscire a trovare anche un accordo con i residenti per far capire questa situazione Noi da tempo ci stiamo confrontando con un gruppo di persone, di residenti che hanno raccolto 91 firme I quali chiedono gli stalli blu perché la zona è molto abitata, densamente abitata Ed hanno difficoltà a trovare il parcheggio Quindi oggi contrastano la nuova soluzione dei parcheggi con disco orario Perché secondo loro, ed è probabile che abbiano anche ragione, non lo metto in dubbio E secondo loro renderebbe ancora più difficoltoso il parcheggio da parte dei residenti Siccome il consiglio di quartiere è un organo consultivo, non ha potere decisionale Ed è l'anello di congiunzione tra il cittadino e l'amministrazione Noi dobbiamo tenere obbligatoriamente una posizione neutrale Quindi cercare di collaborare con l'amministrazione per fare la scelta migliore, certamente Ma tenere conto anche delle esigenze dei residenti e dei commercianti Che purtroppo in questo caso hanno interessi completamente diversi Un consigliere di Siamo Pesaro ha chiesto un incontro Ha chiesto di promuovere un incontro con politici e tecnici del comune Per spiegare le ragioni di questa scelta L'abbiamo votata all'unanimità perché a questo punto Noi come consiglio di quartiere dobbiamo tutelarci Altrimenti ci stiamo tirando dietro gli strali degli uni e degli altri Ed ora gli aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus nel nostro territorio Nelle ultime 24 ore infatti sono stati testati 1858 tamponi 898 nel percorso nuove diagnosi e 960 nel percorso guariti I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 12 Con 6 casi registrati nella provincia pesarese Il servizio sanità ha notificato un nuovo decesso legato al covid-19 Ed ora parliamo di lavoro perché anche sul territorio pesarese È caccia ai lavoratori stagionali Sono tante infatti le figure ricercate con l'inizio di questa stagione estiva 2021 Ma poche le domande che poi trovano risposta E allora noi abbiamo intervistato il responsabile del centro per l'impiego pesarese Claudio Andreani La situazione è una situazione comunque di difficoltà di trovare il personale Questo ovviamente le confermo Le richieste sono tante su tutti i ruoli Dai baristi, camerieri, aiuto cuochi, cuochi Questa difficoltà però secondo me è più legata a una questione delle competenze In fondo il bacino del centro per l'impiego di Pesaro rappresenta circa 9.000 persone in ricerca attiva del lavoro Di cui il 60% circa ha la terza media O addirittura non ha anche meno, non ha nemmeno nessun titolo di studio Fino a poco tempo fa si viveva nella più completa incertezza Quindi questo ovviamente ha creato problemi Sicuramente di programmazione da parte degli imprenditori Ma anche gli stessi lavoratori Che non sapevano se riuscivano a fare la stagione Si fa o non si fa Quando parte Eccetera Tendenzialmente in genere La ricerca del personale stagionale Iniziava anzi Verso dicembre E' chiaro che quest'anno Ma anche l'anno scorso C'è stato uno spostamento Delle richieste delle figure professionali legate al turismo E questo fra l'altro ha provocato una richiesta improvvisa Di un numero ovviamente importante E anche rispetto al reddito di cittadinanza I nostri navigator ci confermano che non ci sono problemi Rispetto all'accettazione dei percettori Rispetto alle proposte di lavoro Anche perché comunque questo ha delle conseguenze La normativa è abbastanza chiara Rispetto a questa cosa Insomma quindi non credo che sia proprio questo Il problema Ci sono le persone ma probabilmente Non ci sono le competenze Ma non è solo un problema legato al lavoro stagionale Attenzione perché questo ormai è un problema Che si riferisce un po' a tutti i settori Soprattutto perché il mercato del lavoro E' orientato a figure specialistiche C'è questa Diciamo Allontanamento Di quelle che sono le competenze dei lavoratori Rispetto a quello che le imprese E le competenze richiedono E' evidente Che soprattutto Se si vuole cogliere Questo Secondo me più di un ribalzo Comunque economico Occorre cominciare a fare un investimento Importante e mirato Proprio rispetto alle competenze dei lavoratori Secondo me anche nel turismo Bisognerebbe intervenire Proprio in termini di formazione Di miglioramento Di quelle che sono le competenze Interessanti contributi A favore delle start up innovative Marchigiane Questo l'obiettivo del nuovo bando Promosso dalla regione Marche Di cui vi parleremo questa sera Con uno speciale tv dedicato Intanto però vi anticipiamo qualcosa È la prima di una serie di leggi economiche Che riguardano le imprese Ed è quella che ha Un contenuto Ad altamente innovativo Abbiamo voluto fare per primo questa legge Perché tra le varie emergenze economiche Quella della fuga dei talenti Del nostro territorio È la più grave E quindi se vogliamo trattenere I migliori giovani laureati Con delle idee Con delle invenzioni Con del talento appunto da esprimere Sicuramente le start up rappresentano Il terreno più fertile Con cui misurarsi Per nuove idee imprenditoriali Oppure nuove innovazioni Che possono essere introdotte nel business Quindi riteniamo che questa legge E quindi questo bando Poi potranno entrare a pieno diritto Nella programmazione europea In questa fase abbiamo fatto Velocemente l'apertura Perché intanto sentivamo l'esigenza Da parte di molti giovani Che volevano tentare Di aprire delle loro aziende È chiaro che abbiamo messo Al centro della selezione Il business plan Cioè la volontà di validare Un progetto che sia Sostenibile finanziariamente E su questo abbiamo chiesto Anche agli intermediari finanziari Come Unico Come altre banche Di assistere finanziariamente A questa scelta politica e economica In modo che Coloro che vogliono fare Una start up innovativa Non siano da soli E possano avere A loro fianco Gli intermediari finanziari E quello che credono Nel loro progetto Come avviene in molte parti del mondo Dobbiamo creare Un ecosistema positivo E favorevole A coloro che vogliono fare impresa Soprattutto se innovativa È una partenza Con risorse della regione Per poi Vedere il fabbisogno Qual è la reale richiesta Di queste risorse Una volta che è definito Il fabbisogno Lo rifinanziamo O con il POR Oppure con I soldi della regione È stato presentato A Vallefoglia Il cartellone Degli eventi estivi Che ci saranno Quest'estate Vediamo La ripartenza Deve essere una ripartenza Molto forte Con attenzione Con attenzione Per evitare Il replay Dell'estate Dell'anno scorso Perché poi Sembrava che era Tutto a posto Poi invece C'è stato Nel periodo autunnale Di nuovo Una ricaduta E naturalmente Le attività Turistiche Culturali Paesaggistiche Ambientali Musicali Noi abbiamo Riprogrammato Grosso modo Le attività Degli altri anni Pre-Covid Ovviamente Si ragionerà Con Le attività Musicali Le attività Teatrali Si tiene conto Un po' Dell'insieme Delle frazioni Delle borgate Del territorio E poi ci sono I tre o quattro eventi Si sta ragionando Insieme Per fare la notte bianca Per rifare La stagione Nel periodo invernale Con la valorizzazione Dei prodotti tipici Locali L'enogastronomia Quella Del tartufo Dell'olio E del melograno La fiera Dell'agroalimentare Insomma Diverse iniziative Soprattutto cinema Teatro Attività culturali Valorizzazione Paesaggistica Ambientale Turistica Le notti romantiche Il verde L'ambiente Il paesaggio I castelli Insomma Ecco Un bel programma Di iniziative Sono tante iniziative Sono rivolte ai giovani Con cinema all'aperto Per ragazzi Quest'anno Anche laboratori E letture Con la collaborazione Della biblioteca E di Michela Gaudenzi C'è tanta musica Con corpo bandistico E tante associazioni musicali Ci sono eventi teatrali Con i fani giulesi E la xenoxodia Di Luca Guerrini E quindi Sono tante iniziative Durante la settimana Sono spalmate Durante la settimana A metà settimana E anche nel fine settimana Nel fine settimana Si svolgeranno anche quelle Magari di maggior rilievo Ad iniziare Dalle 10 di luglio Che c'è La notte Dei Castelli A Sant'Angelo In Lizola E Montefabri E in collaborazione Col Circolo E con la Proloco Il weekend successivo Si sarà una riproposizione Della Fiesta Global In maniera ridotta Con format diversi Con pronotazioni Però Si sarà una riproposizione Di questa importante iniziativa Il weekend successivo L'ultimo weekend di luglio Si sarà la notte bianca Nella parte bassa Del territorio Speriamo di coinvolgere Insomma Le diverse realtà locali E naturalmente Rispettando tutte le normative Vigenti Poi importanti iniziative Anche nel mese di agosto A Sant'Angelo In Lizola Una iniziativa in particolare A cavallo del Ferragosto Dal tramonto all'alba Un'iniziativa nuova Che ha avuto molto successo Grazie alla Proloco Giovani E quindi Siamo certi che L'ovra anche quest'anno E' avvenuta Questa mattina In Piazza del Popolo La consegna simbolica Di un Fiat Doblò Donato Alla protezione civile Comunale Da Progetti del Cuore Realtà solidale Guidata dalla cantante Annalisa Minetti Con il contributo Di 30 aziende Del territorio Il mezzo Per la cui gestione I progetti del cuore Hanno previsto Anche un contributo Di 8 mila euro Sarà in dotazione Ai volontari Della protezione civile Comunale Per otto anni E sarà utilizzato Per gli spostamenti Di persone Con disabilità Che hanno bisogno Di assistenza Per raggiungere Fra l'altro Ambolatori O strutture sanitarie Notizie anche Dalla ONLUS Gulliver Alla quale è stato Assegnato Un nuovo mezzo Da parte Dell'Agenzia Nazionale Dei beni confiscati Alla criminalità Organizzata L'ente del Ministero Dell'Interno Ha riconosciuto Nell'operato Dei volontari Della ONLUS Gulliver Una utilità Sociale Essenziale Al servizio Della comunità Locale Il nuovo mezzo Che sarà operativo Tra pochi giorni Sarà destinato Alle raccolte Di cibo E alla sua distribuzione Alle famiglie Bisognose E ritornano Gli appuntamenti estivi Di Gradara Ogni mercoledì E venerdì Di luglio Agosto Alle ore 19.30 Avrà luogo Prima della sera Un contenitore Di eventi Che animeranno Il borgo E la rocca La prima serata Quella del 25 giugno È dedicata a Dante Alighieri A Peridante Offrirà agli ospiti La possibilità Infatti Di conoscere La storia Della città Grazie ad una passeggiata Nel borgo Accompagnata Dai versi Della Divina Commedia E gustando Inoltre I sapori Della tradizione Culinaria Locale Per rispettare Le norme di sicurezza È necessario Prenotare Il proprio posto Contattando Il numero 0541 96 41 15 Torna Lavanda In fiore A Monbaroccio Che nell'edizione 2021 Sarà articolata In due weekend Il 26 Il 27 giugno Il 3 E 4 luglio La manifestazione Si svolge In occasione Della fioritura Della lavanda Ed offre Ai partecipanti La possibilità Di visitare I campi coltivati Dell'azienda agricola L'Infinito Di immergersi Nel bosco Del Beato Sante E di partecipare A visite guidate Al Santuario E alla Pinacoteca L'inaugurazione Dell'evento È fissata Per sabato Alle ore 11 Per maggiori informazioni È possibile Contattare La Proloco Di Monbaroccio Al numero 0721 47 0799 E Chuck Si gira Va in scena Infatti In questi giorni Mascherine Il nuovo cortometraggio Scritto e diretto Da Alessandro Haber Tra gli artisti Più introspettivi Del panorama italiano Di recente Di recente tra l'altro Premiato ai nastri d'argento E al cortina metraggio Grazie alla location manager Francesca Guidi E a Sonia Giacometti Il corto viene girato Nelle Marche In particolare Nel comune di Gradara Il sindaco Gasperi Ha invitato il regista Haber Insieme al suo cast E la troupe A visitare la rocca di Gradara Omaggiando ciascuno degli ospiti Con il profumo Di Paolo e Francesca Alcuni dei prossimi Ciac Verranno girati Anche a Pesaro E continuiamo a parlare Di video Perché sono tre video Per tramandare Ai più giovani La passione per la musica E sono esattamente Quelli realizzati a Fano Nell'ambito del progetto Indovina chi viene a suonare Che unisce istituzioni E musicisti Tra gag E incursioni Tra gli artisti I filmati Verranno mostrati Ai ragazzi delle scuole A partire da settembre Il servizio È di Simone Celli Trasmettere l'amore Per la musica Con leggerezza E attraverso Il linguaggio più amato Dai giovanissimi Il video È questo l'obiettivo Del progetto di formazione Che vede uniti I servizi educativi Del comune di Fano I musicisti Dell'orchestra sinfonica Rossini E la fondazione Teatro della Fortuna Il risultato Sono tre filmati Dal nome in codice Indovina chi viene a suonare Che verranno proiettati Nelle scuole A partire da settembre Video Dai toni scanzonati Ma densi di passione Per note spartiti Alcuni dei quali Realizzati Semplicemente Attraverso un cellulare L'idea è nata Quando eravamo In completo lockdown Un anno e mezzo fa Ci si adoperava Con i servizi educativi Per dare l'opportunità Ai bambini Che stavano a casa Di poter continuare A fare musica E un bel giorno Il dottore Non so se chiamare Dottore Il maestro Salucci Mi chiamò Gli disse Che un video In particolare Gli era piaciuto E si parlava Di strumenti Di quiz Un quiz sugli strumenti Chiaramente a casa Fatto con il cellulare Fatto con le alchimie Più impossibili E da lì Appunto è nata Questa collaborazione E siamo arrivati A tre video Che chiaramente Ancora non sono stati Affatto presentati Nessuno li ha ancora visti Tre video Che prendono il titolo Indovina chi viene a suonare Il secondo Abbiamo fatto una piccola deviazione E poi vi spiegherò Ma il primo Tutto nato a casa mia Dove ho coinvolto Mio figlio e miei nipoti E' nato sotto forma Di quiz musicale Chiaramente la cosa Eccezionale E che poi Con l'orchestra Con l'orchestra sinfonica Rossini E i professori Abbiamo messo insieme Sia la parte didattica E semplice Che può servire Sia Anche per capirci Alla scuola dell'infanzia Con i professori Che hanno spiegato In maniera eccezionale Gli strumenti E poi abbiamo messo L'uso dello strumento In orchestra Quindi quello che succede Quando poi L'orchestra Lo strumento viene portato In orchestra La fantastica Orchestra sinfonica Quindi Il primo Girato tutto Con i cellulari E assemblato Con le parete telefonate Infatti poi vedete Che è molto diverso Poi Il secondo Che è stato Una piccola deviazione Dal titolo Quindi il primo È indovina chi viene a suonare I legni Il secondo Indovina chi viene a suonare Ma siamo in teatro L'idea di far vedere Cosa succede dietro le quinte Quindi i bambini Della scuola Tombari Della classe quinte La Tombari Sono venuti Seguiti da me Senza disturbare le prove Sul In palcoscenico Durante le prove Di Pulcinella Un'opera fantastica Il terzo Che doveva essere Secondo Il terzo I legni Vede la partecipazione Anche di una cantante Famosissima Non è vero Di Stefania Caraboni Mia collega storica E parliamo dei legni E qui poi Grazie appunto Alla porto Del mestre dell'orchestra In teatro Io e Stefania Abbiamo fatto un piccolo Prologo simpatico E poi I professori dell'orchestra Norris e il quartetto Frutto dell'orchestra Hanno spiegato In maniera Semplice E chiara Quelli che sono gli archi Quindi Ci saranno altri video Poi in futuro Il prossimo Non so se posso svelarlo Stefania farà Lady Gaga Quindi già ci spostiamo In un altro In un altro ambito Estro e ironia Sono i due ingredienti principali Tra lezioni di musica Gag Incursioni E interviste Ai musicisti Spesso io racconto Dell'orchestra In questo caso Dell'orchestra sinfonica Rossini Un doppio ruolo L'orchestra è un interprete In prima persona Che organizza e propone concerti E l'orchestra è anche Un'istituzione di servizio Cioè può servire A chi organizza opera Può servire ad altri E in questo caso E in questo caso L'orchestra si è messa Al servizio del territorio Della città di Fano E dei servizi educativi Per un progetto di formazione A cui noi teniamo molto Perché comunque I giovani Si dice sempre Che saranno gli spettatori Del domani Per cui bisogna fare qualcosa Per questi giovani E quindi ho messo a disposizione I nostri professori Che abbiamo la fortuna Di avere un'orchestra Con un nucleo Nel territorio E questa è una grande fortuna Perché avere nel territorio Professori di questo livello Ci permette Di giocare Di giocare bene Di divertirci E di fare cose molto importanti Quindi i nostri Le nostre prime parti Si sono messe a disposizione Del genio creativo Di Giorgio Caselli Dei servizi educativi E della signora Carboni E quindi abbiamo fatto Una serie di puntate Che partono sicuramente Dal problema pandemico Dello stare a casa E quindi di riversarci Sullo streaming Ma poi approdano Semplicemente Una produzione Video Che servirà Alle scuole Nei prossimi mesi E sono in partenza Domani gli appuntamenti Con la nuova stagione Della Under Camer Orchestra Sei concerti Ogni venerdì A partire dal 25 giugno Fino al 30 luglio Alle ore 21.30 Nella cornice Dell'antico chiostro Del conventino Dei serviti di Maria A Monte Cicardo L'intervista Al direttore artistico Della Under Camer Orchestra Paolo Marzocchi Under Camer significa Camera delle meraviglie E il conventino È una camera delle meraviglie A tutti gli effetti Un chiostro spettacolare Tra l'altro L'acustica è molto bella E lo proviamo Con diverse formazioni Dalle più piccole Dalla chitarra classica Sola Al pianoforte Solo Che ha un volume diverso Fino al trio Fino al duo Al quintetto E fino a una specie Di orchestra Leofilizzata Che è il progetto Dell'ensemble Giovanile della Under Camer Orchestra Diretto da Ivan Gambini Alla fine della stagione Il trio Gustav Che è un trio Blasonatissimo Che aprirà Diciamo La stagione Il 25 Quindi la prossima settimana Il 25 di giugno Con un programma Di Filip Sharvenka Che è un Compositore Di cui è in corso L'ha riscoperto Un compositore Geniale E Per questi strani Paradossi La storia della musica È ingiustamente Dimenticato Poi abbiamo Maddalena De Biasi Con Lorenzo Antinori Entrambi molto giovani E già Affermati Che faranno Un programma Dedicato Alla musica vocale Di Handel Quindi L'abbiamo intitolato Handel all'opera Non sono tutte aree d'opera Ma in senso Di Handel al lavoro Poi abbiamo Giacomo Palazzesi Chitarra classica Un chitarrista Strepitoso Raffinatissimo Con un suono Che sta quasi diventando Un suono di riferimento Nei suoi dischi Che presenterà Il suo ultimo lavoro Ed è un Offre un programma Che spazia Dalla musica di Bach Fino alla musica Di due autori Del novecento Enze E Takemitsu Quindi Con delle atmosfere A parte di grandissima Difficoltà esecutiva Ma anche Con delle atmosfere Particolarmente Accattivanti E emozionanti Come quelle di Takemitsu E poi abbiamo Il sottoscritto Del quale Ti prego di non farmi Nessuna domanda Su che cosa suonerò Dico solo che farò La quinta sinfonia Di Beethoven Al pianoforte Nella trascrizione Di list E poi Abbiamo Come ultimo appuntamento L'ensemble giovanile Della Wunderkammer Diretto da Ivan Gambini Che è un musicista Che con noi ha lavorato molto Che molti conoscono Ma è Non solo un percussionista Ma è un musicista A 360 gradi E finalmente Lo possiamo ascoltare Come direttore d'orchestra E come anticipato Poco fa In un nostro servizio Questa sera Su Rossini TV Alle 21 e 15 Un approfondimento Molto interessante Che dico Di seguire A tutti i giovani Che ci stanno guardando Ma anche a tutti I grandi Che vogliono Invece Aprire una nuova attività Una nuova start up Una grande occasione Per ricevere Un bando Un finanziamento Dalla regione Marche 3, 2, 1 start up Tutte le modalità Su come accedere A questo bando E poi a seguire Alle 21 e 30 Vi facciamo vedere Pesaro pronta a rinascere Sette anni da sindaco Una grande intervista Che è stata fatta In piazza Del popolo A Pesaro La scorsa settimana In cui è stato intervistato Matteo Ricci Che ha raccontato Questi sette anni Da sindaco Potete vedere Una sintesi Questa sera Alle 21 e 30 E poi vi ricordiamo Anche di votare La vostra foto preferita Sulla nostra pagina facebook Ogni reaction Quindi ogni simbolo Che vedete Corrisponde alla foto Che volete votare Andate sulla pagina facebook E votate La foto Che più Amate Avete tempo Una settimana Perché poi La settimana prossima Il mercoledì Con la nuova puntata Di Quala Zampa Ne verranno inserite Altre E grazie come sempre Per essere stati In nostra compagnia Adesso vi lascio Con tutte le informazioni Riguardante il meteo Per i prossimi giorni Vi ricordo poi Che la rassegna stampa Tornerà domani Alle 7.20 In diretta Con Daniele Romagna Grazie